Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, l'ultimo per questa settimana. Iniziamo subito la lettura dei giornali partendo dalle prime pagine regionali, in particolare iniziando a vedere quelle del centro, le quattro edizioni provinciali. Questa è la prima pagina di Pescara, il titolo di apertura è dedicato alla sanità da Mario Vavia Mancini alla ASL, si chiede il giornale. Il manager è stato nominato subcommissario in campagna in Pol, l'ex assessore. E poi a centro pagina, sempre restando alla politica, la cena di autofinanziamento del Movimento 5 Stelle con Di Battista e gli altri grillini camerieri per una sera. Ieri a Francavilla c'è stata questa iniziativa del Movimento 5 Stelle anche in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno proprio nella città rivierasca. Nelle cronache di spalla, Montesilvano Idraulico muore a 52 anni, è morto per un infarto mentre lavorava a casa di un cliente in via Settembrini, vittima della tragedia avvenuta ieri a Montesilvano, Pino Febo di 52 anni. Poi Giubileo al via alla Caritas, si apre la prima porta santa, parliamo della mensa della Caritas a Pescara. Poi per il calcio di Serie B, il Pescara alla riscossa con Fiorillo, oggi alle 15 in campo, il Delfino in casa, rientra Fiorillo contro la Virtus Sentella. Andiamo a vedere sotto la fotonotizia, da Vindoli a Roccaraso, sole e neve riparte lo sci boom di prenotazione e poi questa mattina il funerale per l'addio a Nicola Prosperi, storico professore del liceo classico. Qui poi troviamo una notizia nazionale che però riguarda anche la nostra regione in qualche maniera, il risparmio tradito, si parla del crack delle banche, del salvataggio dei quattro istituti di credito italiani, tra cui c'è anche la Carichietti, arbitrato sui bond, rimborsi caso per caso. Questa sembra essere la decisione concordata tra il governo italiano e l'Unione Europea. Un arbitrato della Consob deciderà caso per caso se concedere o meno il rimborso agli obbligazionisti subordinati di queste banche che in questo momento hanno perso ciò che avevano investito. E poi l'editoriale di Bruno Manfellotto non si campa sotto la banca, questo il titolo. Andiamo a vedere anche sotto la testata del centro Roma l'inchiesta svolta nel caso Cucchi, scusate, pestato dai carabinieri. E poi il caso Garlasco in Cassazione, il procuratore generale chiede di annullare la condanna di Stasi. Quindi se dovesse essere così si andrebbe verso il sesto processo per quanto riguarda l'omicidio di Chiara Poggi. Poi il buongiorno a Bruzzo nel taglio basso firmato da Gianni Lamacchia, bucchianico capitale della lotta al dolore. Andiamo a leggere qualche passaggio. Ebbene sì, anche l'Italia in guerra, non con gli esaltati dell'Isis, ma con un nemico comunque subdolo e antico, il dolore. Si calcolano che siano 13 milioni gli italiani che sentono male in modo cronico ed intenso e a spanne 250 mila abruzzesi. Ci sarà un incontro per discutere proprio del dolore. Poi c'è Bucchianico, scrive Lamacchia, il paese che non dimentica di aver dato i Natali a San Camillo dell'Ellis e che è il primo comune abruzzese ad entrare nel circuito delle città del sollievo. Nel 2016 organizzerà il primo corso per volontari in curie pagliative. Bravi, dice Lamacchia. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro e adesso passiamo alle altre prime pagine, partendo da quella della edizione dedicata alla provincia di Chieti. Vediamo il titolo di apertura che riguarda la cronaca giudiziaria. D'Agostino condanna definitiva l'ex assessore di Chieti, però evita il carcere e resta a lavorare alla ASL. A centro pagina l'incontro a Ripatiatina con il centro per quanto riguarda questa fotonotizia, gli studenti protagonisti al convegno sulla sicurezza. Nelle cronache a Perano, abusi, processo da rifare per il sindaco, la Cassazione a nulla, la condanna per il sindaco di Perano, Gianni Bedisario, in appello era stato condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale. Nelle cronache di Vasto, senza stipendio lo sciopero del Cotir non si ferma. I dipendenti due giorni fa erano saliti sul tetto del Cotir di Vasto. Ieri c'è stato un incontro con l'assessore all'agricoltura Dino Pepe che ha garantito che 14 mensilità delle 22 non pagate saranno saldate entro fine anno, però i dipendenti continuano lo sciopero della fame. E poi per il calcio di Serie B il Lanciano cerca il colpo ad Avellino, un colpo che manca ormai da molto tempo. La Virtus a caccia della vittoria in trasferta che manca da un anno e soprattutto bisogna riscattare il KO interno subito nella scorsa partita contro il Cagliari. Ripartita finita 1 a 3. Sotto la fotonotizia il risico dei magistrati. Il PM Mennini è in corsa per la Procura Generale. Poi in Vasto, donna nei guai, entra per fare la spesa, marapina la cassiera. E ancora per quanto riguarda il risparmio tradito, carichieti BCC Molla arbitrato sui bond. Qui vedete invece una fotografia del sindaco Umberto Di Primio che ieri è intervenuto ad una trasmissione di Rai 3, in particolare Mi Manda Rai 3, che si è occupata proprio del caso degli obbligazionisti delle banche oggetto del decreto salvabanche. Andiamo avanti. Adesso andremo a vedere la prima pagina dell'edizione terramana del centro. Andiamo a vedere qual è il titolo di apertura scelto per questa prima pagina. Si parla di migrazione. Teramo ospiterà 800 migranti. Previsto un consistente aumento nel 2016, apre un'altra struttura. Poi la politica nella fotonotizia, la crisi di maggioranza in comune, giunta, si prevede solo un ritocco e Gatti blinda i suoi. Il giorno dopo l'annuncio dell'azzeramento della giunta da parte del sindaco Brucchi, le voci di corridoio dicono che il rimpasto di gennaio potrebbe essere solo un ritocco senza tagli agli assessori. Paolo Gatti nel frattempo blinda i suoi dichiarando i voti presi alle elezioni. Contano più di tutto. Nelle cronache, aveva 57 anni, medico Adriano morto a Padova. Morto per una malattia il medico Adriano Scalone. Da molti anni viveva a Padova ma era rimasto legatissimo alla sua città. In Teramo, piazza Garibaldi, suocere nuore investite sulle strisce, ieri all'imbocco di Viale Crucioli. Poi per il calcio di Lega Pro il Teramo alla riscossa contro la pistoiese Vivarini si affida alla vecchia guardia. Infatti tornerà la difesa che ha così ben fatto lo scorso anno nel campionato vinto. E poi sapete tutti come andò a finire la scorsa stagione. Andiamo a vedere anche sotto la fotonotizia la cucina piamata d'Abruzzo, ristoranti Teramani senza stelle Michelin. E poi deciderà D'Alfonso, zoo profilattico 4 in corsa per la direzione. Andiamo ancora avanti per vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro. C'è quella che si riferisce al capologo di regione e alla sua provincia, l'Aquila Vezzano Sulmona. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Appalti e mazzette, otto gli arresti, lavori militari, clan guidato dall'imprenditore avezzanese Sabetti. Ci si riferisce all'inchiesta di cui si è avuta notizia ieri che riguarda gli appalti per i lavori all'interno di alcune caserme dell'aeronautica militare. A centro pagina incidenti a Sulmona e a Celano. La tragica fine dei lupi investiti ed uccisi sulle strade. Un cucciolo di lupo che vedete nella fotografia è stato travolto ed ucciso da un'auto sulla statale 17 nei pressi di Sulmona. Un altro esemplare ha subito la stessa fine in via Vestina alla periferia di Celano. Altri sette lupi sono stati avvistati lungo la strada che porta da Pescina a Collarmele. Un autobobilista li ha evitati per un soffio. Nelle cronache, l'Aquila ha cinque indagati per il ponte senza collaudo. Si parla del ponte sul fiume Aterno della Cogea di Bazzano, che è senza collaudo, scatta un sequestro preventivo di 383 mila euro nell'inchiesta che vede cinque indagati. Pratola, la forestale demolite nove ville abusive. Il corpo forestale dello Stato chiede la demolizione, come detto, di nove ville abusive a Pratola. Ancora furti, ladri in azione nei municipi di Ocre ed Aielli. Sono stati causati anche dei danni. Sotto la fotonotizia, Roccaraso, sole e tanta neve si scia, weekend con il pienone. Poi a Canistro, Santa Croce, la regione blocca la concessione. Andiamo avanti con la lettura dei giornali. Adesso andiamo a vedere un'altra testata, un'altra prima pagina che riguarda la nostra regione, cioè quella del messaggero. Arrestato imprenditore, tangenti appalti nelle basi militari, in carcere l'Avezzanese Sabetti per la procura di Velletri. Era lui il manovratore, altri sette sono finiti in manette. E poi la Carichietti, Zanetti, Gela, le speranze in diretta tv per azionisti e possessori di obbligazioni secondarie di Carichietti, doccia fredda in diretta tv per bocca del sottosegretario Enrico Zanetti. Poi Vasto, Cotir, gli stipendi non fermano la protesta. Abbiamo già detto prima l'incontro di ieri con l'assessore all'agricoltura Dino Pepe che ha garantito il pagamento di 14 delle 22 mensilità non saldate ai dipendenti del Cotir. A centropagina, Pescara, sempre per quanto riguarda il lavoro, lavoratori interinali di attiva contro il Comune, l'ira degli esclusi Natale con i rifiuti. Messi alla porta infuriati gli interinali di attiva. Ieri hanno gridato la loro rabbia sulle scale del Comune, preparano una clamorosa protesta, forse lasciare Pescara sotto i rifiuti a Natale. Andiamo a vedere anche di spalla, si torna a parlare dei lupi, lupi dovunque al mare e nel centro di Sulmona. Due esemplari avvistati a Torino di Sangro, in particolare nella Lecce, un altro travolto da unato nella città Peligna. E poi il caso Sindacati chiude la Santa Croce, l'azienda però subito dopo smentisce e dice è tutto falso, nessun licenziamento e nessuna chiusura dell'azienda. Andiamo a vedere, scusate, nel taglio basso Teramo, Brucchi mette tutto in gioco. Ovviamente ci si riferisce all'azzeramento della Giunta e alle nuove deleghe che saranno assegnate a gennaio dal Sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, per risolvere la crisi di maggioranza. Andiamo sotto la testata. Sanità da Mario Vavia, subcommissario in campagna, Asl unica vicina. E poi il giorno e la notte con Girotto, il tango incontra le sonorità del jazz. E infine il calcio di Serie B, Pescara scacciare la crisi, Lanciano invece serve l'impresa. Il Delfino in casa affronta la Virtus Entella, mentre i frentani del Lanciano andranno a giocare ad Avellino con una formazione largamente rimaneggiata. Andiamo a vedere la prima pagina della città ora. E dunque andremo a vedere anche qual è il titolo di apertura scelto dal quotidiano della provincia di Teramo. e la politica in primo piano, ovviamente con la notizia dell'azzeramento della giunta Brucchi. Brucchi verso un'altra giunta a nove. Improbabile il taglio a poltrone e indennità. Il sindaco mette sul piatto le sue deleghe e anche la Team. E poi a centropagina, a San Gabriele, attesi 5.000 fedeli per l'inizio dell'anno santo, porte aperte al giubileo. Questo è il titolo sulla bella fotografia della facciata della Basilica Vecchia di San Gabriele. Poi, sotto la testata, gare truccate nell'aeronautica militare, tangenti a Ciampino, arrestato una vezzanese. Di spalla, emergenza, 660 migranti, ospiti in 19 centri terramani. A Tortoreto, l'accolterlatore coltivava marihuana ad Atri, il reparto di endocrinologia e salvo. E poi, nel taglio basso, il libro sul cantautore rock, volete capire o no che Ivan era un genio. E poi, Logue e sapori, la giornalista oriance che ci racconta per l'Olanda il Marcuzzo esiste davvero. Andiamo adesso ad aprire la pagina dedicata alle notizie nazionali, andando a vedere le prime pagine dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Ovviamente, su molti dei quotidiani tiene banco il crack delle banche, scusate, il gioco di parole. Risparmio, il piano per i rimborsi. Banche, cambierà la legge di stabilità per gli obbligazionisti dei quattro istituti salvati. Bruxelles dice, non è una crisi umanitaria. Via libera dell'Unione Europea all'arbitrato e dunque si deciderà caso per caso. Renzi dice, riformeremo il sistema. E poi, a centro pagina, finanza e corruzione. Possiede Club Med, una quota del Cirque du Soleil, il mistero cinese del miliardario sparito. Infine, nel taglio basso, Garlasco, il PG, chiede il sesto processo. Micidio Poggi, annullare la condanna a Stasi. Questa è la richiesta del procuratore generale. i legali, la Cassazione lo assolva. Andiamo sulla Repubblica Banche. L'Unione Europea apre all'Italia posizione più morbida sui rimborsi ai risparmiatori. Sarà la consoba a giudicare sulle truffe, polemiche sull'Etruria. Il ministro Boschi diserta la serata inaugurare della Leopolda. Andiamo avanti. Ancora Banche. La UE scarsi controlli, questo è il titolo di apertura della stampa. La commissione contro Consob e Banca Italia su 10.000 risparmiatori che hanno perso tutto. Padoan, con una dichiarazione abbastanza forte, italiani ignoranti di finanza. Arbitrati per risarcire solo chi ne avrà diritto. Renzi è urgente la riforma del sistema. A centro pagina Isis avanza in Libia a rischio le rovine di Sabrata in un video minaccia all'Italia con un mandato ONU Roma potrebbe rafforzare la missione navale. Andiamo sul sole 24 ore. Ovviamente le banche in primo piano. L'Unione Europea via libera agli arbitrati per decidere caso per caso. Padoan, valutazioni mirate, fondo con contributo delle banche, e visco sui controlli da Banca Italia impegno massimo fatto il meglio. Salva risparmiatori atteso oggi l'emendamento alla manovra messo a punto dal governo. Intanto, per quanto riguarda i mercati, il petrolio affonda i listini, piazza affari perde l'1,84%. Poi, a centro pagina, evasione, illusione e riciclaggio così cambiano i controlli fiscali pronta la direttiva della Guardia di Finanza per gli accertamenti per il 2016. Andiamo al messaggero ora. Crack banche, arbitrato per i danni. Il piano del governo, un fondo di solidarietà e un lodo per risarcire i clienti degli istituti falliti. Bruxelles, ok alla conciliazione gestita dalla Consob, ma niente rimborsi diretti dallo Stato. E poi, vertice a Roma, timori per le vestigie, a Libia, intesa Tripoli, Tobruk, arriva l'Isis, allarme a Sabrata. Per il giubileo, l'impegno di Tronca, cantieri chiusi entro gennaio. L'intervista, il commissario di Roma, Buche, già stanziati, 8 milioni. Andiamo avanti, sul giornale, stipendi da Nababbi, prima del crack, 20 milioni ai banchieri falliti. Il decreto ora fa tremare la Boschi per una norma che salva il papà. Berlusconi dice, dovevano pagare tutto le banche. Libero, un sistema marcio, truffa delle banche, ecco le prove, la popolare dell'Etruria, concedeva mutui solo a chi sottoscriveva azioni ed emetteva i bond dopo essere stata esclusa dai crediti, ma Consob e Banca Italia non sono intervenute, a che servono? Si chiede Libero. Andiamo sul foglio, andiamo a vedere qualche titolo anche dal foglio, l'Italia che non sa dire rischio, dietro i calac bancari, il ruolo frenante delle fondazioni e la poca concorrenza sugli investimenti, l'illusione nel dramma delle banche, che esista ciò che in natura non esiste, cioè l'investimento sicuro. E poi con questa vignetta su Banca Etruria, dove finì il sogno renziano, quanto vale l'obbligazione Leopolda? L'investimento sul Renzi potrà fruttare davvero soltanto se il Premier metterà a fuoco ciò che ancora non funziona nel suo governo. Spesa, concorrenza, PD, populismo penale, esteri, quali sono i cinque fattori di rischio del renzismo? Dunque queste le valutazioni del foglio. Andiamo sul tempo. Così li hanno suicidati. Prima la crisi, ora le banche. Dal 2012 sono quasi 600 le persone che si sono tolte la vita e nel 2015 più casi tra pensionati e giovani disoccupati che tra gli imprenditori. Poi di spalla porte blindate e la sicurezza secondo Renzi e 3 milioni vanno alla cultura africana. A centro pagina i carri armati dell'Isis dal Colosseo fino a San Pietro video shock contro Roma. Nel taglio alto Zingaretti inaugura il reparto mai chiuso, la bufala delle nuove strutture di terapia intensiva al San Capillo a Roma. Andiamo avanti. Il mattino di Napoli. La valanga dei bond a rischio. Padoan responsabilità di tutto il sistema. Risarcimento con i fondi delle banche in Italia vendute dagli istituti. 370 obbligazioni tossiche per 60 miliardi. A centro pagina il caso Garlasco. Giallo senza fine. Stasi va assolto. Così il procuratore generale in Cassazione. Impossibile dire che ha ucciso Chiara Poggi. Secondo il PG vedremo cosa deciderà la corte di Cassazione. Poi nel taglio alto domani il big match tra Napoli e Roma. Stiamo attenti dice Sarri. La Roma non è in crisi. Richiamo ai giocatori. Stadio da tutto esaurito. Andiamo avanti. L'avvenire. Un titolo differente rispetto agli altri che abbiamo visto fino ad ora. Azzardo in televisione. Un cambiamento spot. Pubblicità vietata sulle tv generaliste dalle 7 alle 22. Questo è l'emendamento del governo alla legge di stabilità. Andiamo avanti. L'unità. Banche impopolari. Basta truffe e truffati. Renzi annuncia la riforma del sistema del credito e dei controlli. L'Unione Europea dice sì al governo ai rimborsi. Caso per caso. Banca Italia stop ai titoli rischiosi. Il manifesto. Il resto. Mancia. Dopo il danno la beffa. L'Unione Europea dà il via libera al governo per l'arbitrato. Per le vittime dell'Etruria. I 340 mila piccoli risparmiatori potranno ottenere una minima delle obbligazioni andate in fumo. E solo se dimostreranno di essere indigenti. Il controllo affidato alla Consob e gli azionisti non vogliamo la mancia e scoppia il caso Boschi. Andiamo sul fatto quotidiano. L'ultimo giornale per questa rassegna nazionale. Banca Etruria. Salvate il soldato Boschi. Saviano. Conflitto di interessi. Deve dimettersi. E lei salta la prima alla Leopolda. Sempre più in difficoltà per il padre coinvolto nel crack a retino. A centropagina. I segreti del potere. Coni ammalagò con i voti della Lega. Quelle truppe poi vi servono. Propose lo scambio alla portavoce di Bobo Maroni. Andiamo prima di passare al meteo a vedere rapidamente anche i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport. Domenica Colossal. Scontri stellari. Parliamo ovviamente di Juventus-Fiorentina e di Napoli-Roma. E poi sotto la testata il piano Inter. Mancini prova di fuga per battere pure Mourinho. Vincere oggi a Udine per scappare. Con 17 punti in trasferta si supererebbe la squadra del triplete. E Toir attacca gli arbitri. Andiamo sul Corriere dello Sport. A tu per tu con Lippi pronto a tornare su una panchina. Se la proposta è interessante la valuterò in modo aperto. Dice a Walter Veltroni. Bernardini il mio maestro. Occhio a Sarri e Di Francesco. E poi così ho saputo. Ho costruito la Super Juve. Il Mondiale è stato vinto da tutto il gruppo. Sotto la testata Toir attacca gli arbitri. L'Inter merita più attenzione. E poi Roma in arrivo il Napoli che scalda un attacco super. Per ancora il big match c'è Sousa che bussa con la Juve da brividi. Da giocatore vinto tutto con la maglia bianconera. Domani con la Fiorentina ovviamente il tecnico Viola vuole i tre punti per puntare allo scudetto. Andiamo su tutto sport. Cattivissimi noi. Questo il titolo. Mandzukic-Kalinic altro che fratelli. Ovviamente si parla dello scontro tra Fiorentina e Juventus. I due attaccanti stelle della sfida Fiorentina sono stati nemici in patria. Bonucci dice allegra intelligente ma usa troppo poco il bastone. Ancora sotto la testata Italia mica i paura. Il sorteggio degli europei da brivido ma su 24 squadre ne passeranno 16 scrive tutto sport. E poi nel taglio basso Zenit da pazzi 32 milioni per Ancellotti. Secondo la stampa russa Carletto è pronto a firmare il Biennale. Ronaldo spero di tornare a lavorare con lui. Adesso come detto passiamo al meteo. Ci colleghiamo con il nostro esperto di meteorologia Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Che tempo farà nel weekend a te? Sarà un bellissimo fine settimana Alfredo come avevamo già annunciato nei giorni scorsi perché è tornata l'alta pressione prevista in ulteriore rafforzamento nelle prossime ore e nella giornata di domenica. Quindi tempo stabile prevalentemente soleggiato con possibili annumolamenti. A partire dal pomeriggio sera è qualche annumolamento in più magari possibile nella giornata di domenica ma si tratterà di nubi alte e stratificate che producono assolutamente dei fenomeni. Saranno possibili però dei banchi di nebbia nelle valli interne soprattutto durante le ore più fredde della giornata. Sono diminuite le temperature rispetto ai giorni scorsi soprattutto nei valori minimi però insomma con l'alta pressione si registrano valori molto bassi nell'Aquilano. L'Aquila meno 6 gradi e per far capire un po' quanto influisce l'alta pressione alle quote superiori a Campo Imperatore attualmente la temperatura è di 4 gradi di sopra dello zero. Quindi ovviamente fa più freddo nelle pianure, nelle valli dove le temperature sono sotto zero. Invece nelle prossime ore è previsto un ulteriore aumento in particolar modo sulle zone collinari, alto collinari e montuose. Quindi al freddo poi non ci saranno particolari sostanziali variazioni nel corso della prossima settimana. Tutto al più il parziale cedimento di questa struttura di alta pressione potrà favorire comunque degli annumolamenti perché potrebbero giungere delle correnti atlantiche provenienti dalla Francia, delle infiltrazioni di aria umida. Quindi oltre ad annumolamenti potrebbero tornare ad intensificarsi le nebbie nelle pianure e nelle valli ma localmente anche lungo la fascia costiera. Quindi questa è la situazione da segnalare. Poi nel corso della prossima settimana, probabilmente tra martedì e giovedì, è previsto il rinforzo di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana su gran parte del Mediterraneo occidentale, sulla penisola iberica e sulla Francia. Alta pressione che potrebbe influenzare un po' il tempo anche sulla nostra penisola, in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali, favorendo un nuovo aumento delle temperature e tempo stabile. Ma non mancheranno gli annumolamenti. Per quel che riguarda le perturbazioni, attualmente scorrono latitudini settentrionali sulle isole britanniche o a nord delle isole britanniche, interessano principalmente la penisola scandinava. Quindi un tempo che non ci riguarderà ancora, almeno nei prossimi giorni, probabilmente anche per gran parte della prossima settimana. Non si prevedono irruzioni di aria fredda, come così invece continuano a annunciare alcuni fidi, che facciano queste notizie di presunte irruzioni di aria fredda. Ribadisco, non si possono fare previsioni attendibili, tra virgolette, attendibili al di là delle 72 ore. Si può ipotizzare la tendenza per non più di 4-6 giorni, per capire un po' a livello generale cosa potrà accadere. Quindi figuriamoci quando si annunciano le ondate di gelo nel fine anno, per l'anno prossimo. Insomma, assolutamente smentisco queste fesserie, le chiamo così sono fesserie. Quindi continuiamo a seguire le previsioni giorno dopo giorno, cercando di capire quello che potrà accadere. Insomma, noi cercheremo di diffondere tutto quello che è necessario, ovviamente quotidianamente al freddo. Eh sì, grazie Giovanni. Ovviamente l'invito che hai già fatto tu in parte e che rinnovo anch'io è quello di seguire abruzzometeo.org per essere sempre aggiornati sulle condizioni meteo nella nostra regione. Poi vi do anche altri due riferimenti, che sono quelli Facebook, questa è la pagina di Abruzzo Meteo, e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma. Ovviamente se avete curiosità potete scrivere Giovanni Saraglieto di rispondervi. Grazie ancora a Giovanni De Palma, a cui auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, una buona giornata e un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie ancora a Giovanni De Palma. Noi ci fermiamo per un break pubblicitario, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione, in particolare torniamo sulla pagina Abruzzo del Messaggero. per vedere le notizie appunto riportate sulla nostra regione. Giunta, approvato il bilancio, un anno di spese molto attente. Paolucci, trovare la quadra per rispettare il patto di stabilità. E poi il Lupi dovunque fino al mare, anche al centro di Sulmona, per riprendere una notizia che abbiamo già visto in prima pagina e che riguarda appunto la discesa dei Lupi che cominciano a farsi vedere anche a bassa quota. E poi ancora la politica, la Leopolda del centro-destra sospiri, riaccende i motori per quanto riguarda il progetto. Possiamo dire così, riparti Pescara. Appalti e legalità, la corruzione costa caro. Ieri il forum a Pescara per quanto riguarda proprio corruzione e legalità negli appalti pubblici. Io chiedo alla regia se è pronto il contributo che riguarda proprio... No, allora possiamo andare avanti. Vediamo se riusciamo a recuperarlo più in là nella nostra rassegna. Intanto andiamo sulla pagina del centro per quanto riguarda sempre le pagine Abruzzo. Completata la buona scuola, piazzati 1.459 docenti precari, passati di ruolo al termine dell'operazione divisa nelle quattro fasi, rimasti vacanti 14 posti, differiti i casi di supplenza. e ora si aspetta il concorsone. Qui vedete anche uno specchietto riassuntivo, assunzioni dei professori a tempo indeterminato e dei docenti di sostegno. Qui vedete i numeri. Poi, sempre restando sulla pagina Abruzzo del centro, bando per i giovani inoccupati, le aziende per il tramite di organismi di formazione accreditati possono richiedere una formazione specifica in base alle esigenze produttive e il senso del bando formazione per l'inserimento lavorativo pubblicato su abruzzolavoro.eu destinato ai giovani NEET, cioè inoccupati, non impiegati e disoccupati, dai 15 ai 29 anni che non lavorano e non studiano. I termini per la presentazione dei progetti formativi scadono il 29 febbraio del prossimo anno. Andiamo di spalla. Giovedì a Chieti, 600 collaboratori convocati per l'assunzione. Sono circa 600 i collaboratori scolastici convocati dall'ufficio scolastico regionale nell'ambito territoriale di Chieti e Pescara per le assunzioni a tempo determinato 2015-2016. I posti sono disponibili all'ITN Acciaiuoli di Ortona, all'ITIS Da Vinci De Giorgio, di Lanciano, all'Ipsar di Villa Santa Maria per quanto riguarda gli istituti coinvolti. Scendiamo nel taglio basso. Sanità pronto, l'elenco con 85 sedi, le nuove farmacie graduatoria fatta dalla Regione, il PD da fiducia alla Giunta regionale per la riforma della ASL unica, questo per quanto si muove all'interno della Sanità. via libera 85 nuove farmacie in Abruzzo, la Giunta regionale ha approvato la graduatoria provvisoria del bando di concorso straordinario bandito nel 2012 a seguito della mini-liberalizzazione ad opera dell'ex governo Monti. Come indicato nella legge, il numero delle nuove farmacie deve essere calcolato in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento dell'Istat. la procedura è stata gestita dalla piattaforma digitale e la graduatoria con tutte le nuove 85 sedi farmaceutiche sarà pubblicata venerdì 18 sul portale Sanità e sul Bura. Andiamo avanti e fra pochissimo vi mostreremo anche il servizio del forum sulla legalità negli appalti pubblici. Intanto completiamo la lettura della pagina Abruzzo del centro. si sci alla grande con sole e neve, prenotazioni boom, il manto tiene in quota, cannone in funzione, a Ovindoli e Roccaraso richieste le case vacanze. Abbiamo sentito dal nostro esperto Giovanni De Palma che sarà un weekend con il sole, dunque tutto a vantaggio di chi vorrà trascorrerlo sulle piste da sci. Per il giubileo, orari e servizi, il giorno delle porte sante a San Gabriele e Lanciano. Questo pomeriggio verranno aperte le due porte sante. Poi commissione accesa, agevolazioni alla sanità privata, proposte, sospese, questo per quanto è successo in commissione all'Aquila e poi oggi e domani il cuore di Telton nelle piazze di Mezzo Abruzzo. Andiamo adesso a parlare di banche. La Carichieti non ci interessa più, il presidente della BCC di Roma Liberati dopo la banca padovana sarebbe troppo, voci di trattative per la BCC di Teramo. Comunque il sistema bancario è sempre in movimento e restando sempre al crack delle banche, Codacons, boigottaggio, Legnini, fiducioso. Questo è l'intervento di Legnini sulla proposta del Codacons. Codacons, e qui vedete la foto di Carlo Rienzi, di boigottare la Carichieti in particolare. Restando in qualche modo nel tema della trasparenza e della legalità che riguarda anche le banche e non solo gli appalti pubblici, andiamo a vedere proprio il forum che si è tenuto ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara. Edoardo Bianchi, presidente dei costruttori di Roma, si parla di trasparenza e legalità oggi in questo convegno a Pescara. Un tema quanto mai attuale? È un tema che poi non riguarda solo i lavori, riguarda tutti i comparti produttivi, riguarda anche i servizi, le forniture. È un tema in generale. Per noi dell'edilizia, per il comparto nostro, c'è una legge delega che sta andando in Parlamento adesso, entro il 18 aprile deve essere approvata e quindi sicuramente è un'occasione importante per dare un contributo in termini di trasparenza. Se perdiamo pure questa occasione... Lei opera a Roma, è inutile sottolineare come la questione mafia capitale stia incidendo un po' anche su un aspetto di immagine del nostro paese. Io non penso sia un problema di immagine perché se c'è una situazione di tale diffusione, di corruzione, può succedere da qualsiasi parte, è giusto che si vada a fondo, è giusto che la si estirpi senza guardare in faccia a nessuno. Ci dobbiamo trovare di fronte a un'amministrazione più snella, più semplice, perché poi nella farraginosità c'è qualcuno a cui viene in mente di non giocare rispettando le regole. Dove e come colloca la nostra regione in un momento di ripresa anche dell'economia nazionale, almeno così sembra? Guardate, l'Italia è stretta e lunga. Voi qui in Abruzzo avete il presidente di Ancechietti, l'ingegner Archietto de Cesare, che sta molto sul pezzo, porta molto avanti le problematiche dell'Abruzzo. Penso che quello che si trova andando in giro per l'Italia è quasi sempre la stessa cosa. Ci dobbiamo di fronte a grandi limiti imposti al patto di stabilità e che quelle poche risorse che ci sono a livello locale vengono assorbite principalmente da spesa corrente. Siamo un paese che rischia di morire di spesa corrente? Abbiamo pensato che fosse in questo momento anche giusto portare, chiamiamola cultura, portare il pensiero, portare argomenti di discussione anche all'infuori delle solite location che già hanno avuto l'Expo o per Roma hanno il Giubileo e quindi portare anche, delocalizzare quelli che possono essere gli argomenti di discussione e portarsi in località o luoghi sempre importanti e quindi poi magari questa è la prima di una serie di iniziative che magari potrebbero fare di Pescara il fulcro di questo. Restiamo a Pescara e andiamo sulla pagina di Pescara del centro. Da oggi Giubileo della Misericordia arriva in città i volontari della Caritas, la città Spalanchi, il cuore. Parlano gli operatori della cittadella di Via Alento prima porta santa ad aprire. Qui c'è bisogno di tutto. Ovviamente poi processione alle 11.30 dalla chiesa di San Gabriele Valentinetti è un evento da vivere con coraggio. Questo è il messaggio del Vescovo di Pescara una porta della misericordia dove chiunque entrerà potrà sperimentare l'amore di Dio che consola, perdona e dona speranza. Queste le parole dell'Arcivescovo Tommaso Valentinetti che ha annunciato ai parroci l'apertura delle porte sante. Andiamo avanti. Chiusa l'inchiesta, cambiamo decisamente argomento. Soget cade la corruzione. Indagati sospiri e mazzocca. Si è sgonfiata l'indagine sui crediti inesigibili del comune per 36 milioni di euro. Al consigliere regionale contestato di avere sollecitato un trattamento di favore. La sanità adesso, il manager dell'azienda sanitaria da Mario Via Dall'Asl arriva a Mancini il dirigente pescarese nominato subcommissario in campagna e in pole position c'è il direttore della Stroke Unit dell'ospedale. Andiamo adesso ad un altro argomento caldo per quanto riguarda Pescara. Attiva i precari, fate lavorare anche noi. Protesta ieri degli interinali davanti al municipio mentre il concorso per le assunzioni all'attiva va avanti. Il caso la prossima settimana arriverà in consiglio. Vediamo il servizio. Di fatto noi siamo lavoratori a tempo indeterminato da otto anni a questa parte. Fermiamo contratti ogni fine del mese. per continuare il lavoro, ma siamo sempre le stesse persone. C'è stato anche un nostro collega che ha già vinto questa causa e noi sulla scia ci siamo gettati in una settantina 60-70 lavoratori che hanno intentato questa causa. Andiamo in tribunale perché sia l'azienda nella veste di Del Bianco e di Michele sia l'amministrazione vecchia e nuova non ci hanno mai ascoltato, non hanno mai preso in considerazione la nostra posizione. Tra l'altro è in atto un concorso di attiva per l'assunzione di 61 lavoratori. Sì, è un concorso che è uscito una settimana dopo la sentenza vinta dal nostro collega proprio come se non si volesse nemmeno pensare di voler indire un dialogo con noi lavoratori su questo fatto. Stato di agitazione da oggi e poi? Stato di agitazione da oggi e poi valuteremo altre forme di protesta sempre rimanendo nella legalità perché quello che ci preme a noi è di far sapere ai cittadini quello che sta succedendo. Abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti perché riteniamo che così facendo l'azienda vada incontro a un enorme danno economico che si riverserebbe ovviamente nelle casse del comune e quindi del cittadino. Andiamo avanti con la lettura del centro. Non palpeggiò la sedicenne assolto un dentista pescarese Pierluigi De Tuglio, scagionato con formula piena dalla Corte d'Appello dell'Aquila. In primo grado fu condannato a 14 mesi per molestie nel suo studio di Pratola. E poi per la cronaca idraulico ucciso da un infarto mentre lavora in una casa tragedia a Montesilvano Pino Febo, 52 anni, stava sistemando un termosifone il personale del 118 ha provato a lungo a rianimarlo oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali e poi la sentenza sugli abusi demaniali del Caffè Le Paiotti il comune non può disporre le demolizioni. A centropagina Nassal, Mantone Ripulito, il cortile Pollaio controllo dei carabinieri a scuola non ci sono emergenze nel campetto si giocherà anche a golf. Nel Taglio Basso, Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo sussidi per 207 studenti cerimonia al Sant'Andrea e poi al Granchio sfida i Fornelli per la Fondazione Due Ali per Pescara oggi e domani rassegna di danza al Matta. E poi la guida ai mercatini a Pescara e il tendone nell'area di Risulta a Montesilvano in festa apertura degli stand nelle città e nei vari borghi storici Cori, Novene e Vimbrulè e Aspoltore e Cogli Zampognari insomma ci sono tutte le manifestazioni che riguardano Pescara e l'area metropolitana ovviamente per il Natale tutti i comuni si stanno attrezzando per i vari eventi. Andiamo sulla pagina di Montesilvano il progetto e c'è stato un vertice a Roma a Belle Arti alla Stella Maris c'è il placet del Ministero decolla il piano di riqualificazione per una sezione dell'Accademia dell'ex Colonia dopo un incontro con il governo voluto dalla senatrice Chiavaroli e dal sindaco Francesco Maragno poi Consiglio Comunale via libera ai fondi per avviare la raccolta porta a porta voto unanime su una mozione del consigliere Di Stefano per semplificare la normativa urbanistica e ridurre le speculazioni Tocco e D'Alonso nel comitato del gemellaggio questo è il resoconto del Consiglio Comunale ci spostiamo nella pagina dell'area metropolitana in particolare a Francavilla singolare iniziativa del Movimento 5 Stelle di Battista e Compani camerieri per una sera e fanno il pienone il deputato romano serve alla cena di autofinanziamento il popolo di Francavilla è il nostro unico padrone così l'esponente del Movimento 5 Stelle sempre a Francavilla prostituzione e rifiuti al via il progetto Festività Sicure andiamo nella pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara vestina gas fumata nera default sempre più vicino Penne non ci sono offerte nella trattativa privata aperta con 30 società per il 12% delle quote azionari il comune deve vendere entro fine mese a Catignano Asl senza budget sopprime il servizio di guardia medica a Popoli il comune fa un mutuo per il teatro si tratta di 95 mila euro che serviranno per completare intonaci, cornicioni e controsoffittature appena l'ospedale salvo grazie al PD così il segretario regionale del Partito Democratico Rapino sospiri non ha mosso un dito per la città questa è l'accusa che rivolge all'esponente di Forza Italia e poi a Torre dei Passeri domenica festa di Santa Lucia con un omaggio alla Francia andiamo adesso sul messaggero e andiamo a vedere la pagina di Chieti si torna a parlare delle banche Carichietti Zanetti Gela Le Speranze il sottosegretario in tv esclude la possibilità di aiuti pubblici ai possessori di obbligazioni subordinate il governo annuncia un fondo per gli arbitrati duro il sindaco Umberto Di Primio i risparmiatori sono stati tranquillizzati dalla Banca d'Italia con Fartigianato all'attacco abbiamo perso 4 milioni e contiamo di riprenderli tutti a centropagina ad Agostino licenziamento confermato forse l'ex assessore eviterà il carcere la Cassazione chiude il caso dell'uomo politico accusato di ricatti sessuali in cambio delle case popolari poi in contravuoto la guerra dei taxi nessuna pace con gli autisti pescaresi questa è una diatriba che va avanti da tempo e che riguarda gli stagli all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo al confine proprio tra le due province di Chieti e Pescara andiamo avanti adesso sulla pagina di Lanciano Vastortona parliamo dell'avvertenza Cotir arrivano gli arretrati ma la protesta non si ferma ieri l'incontro con l'assessore Dino Pepe e con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori vediamo il servizio noi cerchiamo entro fine anno di pagare alcuni stipendi arretrati dei dipendenti dei Cotir Crab e Crivea quelli del 2014 attraverso delle determini che sono state già depositate presso la nostra ragioneria il Cotir avrà a disposizione 660 mila euro come primo impegno di pagamento per il 2015 stiamo studiando un piano di riordino complessivo per i centri di ricerca per la costituzione di un organismo unico per la ricerca in agricoltura nella nostra regione per questo il fondo di rotazione avrà una durata triennale noi dobbiamo recuperare questi mesi arretrati questi mesi difficili questa situazione difficile che si prolunga da tanti anni nei nostri centri di ricerca ovviamente questo organismo unico e soprattutto la ricostituzione a livello di capitali a disposizione dei centri di ricerca ci dovrà consentire ce lo auguriamo tutti una ripresa e un nuovo vigore per i centri di ricerca noi non siamo assolutamente soddisfatti e ne rassicurati le cifre che oggi ha portato l'assessore conferma delle cifre che erano oramai a conoscenza di tutti ma che nella migliore delle ipotesi che ad oggi non sono ancora diciamo percepibili da noi lavoratori andranno a coprire solo il 2014 non ho sentito niente di nuovo per quanto riguarda nuove risorse per la copertura di tutto il 2015 voglio ricordare che quando si parla di pagamenti degli stipendi e dentro l'assessore ho sentito spesso dall'assessore ma anche dai liquidatori il pagamento degli stipendi ma stiamo parlando di pagamento degli stipendi 2014 quindi noi abbiamo già maturato tutto il 2015 e non ci sentiamo rassicurati infatti la protesta andrà avanti passiamo alla pagina dell'Aquila sto convincendo Trifuoggi a candidarsi alle primarie Cialente convinto che non ci sarà spazio per le liste civiche lancia il suo vice l'Italia dei valori scommette su Cocciante ex sindaco e amministratore di lungo corso il Giovanni Cocciante né assessore mi sento onorato sebbene sia nativo di Rocca di Mezzo questa è la mia città ha dichiarato andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona tangenti marsicane per le basi militari tra gli otto arrestati dalla procura di Vellettric c'è anche il 45enne imprenditore avezzanese Giovanni Sabetti già indagato per un'inchiesta su fin meccanica sarebbe il manovratore per l'aggiudicazione degli appalti poi la vicenda della Santa Croce di Canistro i sindacati ieri con una nota hanno annunciato la chiusura dello stabilimento e il licenziamento di 75 operai l'azienda ha smentito subito dopo dicendo che è falsa la notizia della chiusura così come quella dei licenziamenti andiamo avanti adesso con la lettura del giornale passiamo alla città per vedere anche le notizie dal capoluogo Terramano e dalla provincia dunque andiamo a recuperare rapidamente le pagine della città la politica in primo piano Brucchi Ter verso un'altra giunta a 9 improbabile il taglio di poltrone indennità il sindaco mette sul piatto le sue deleghe e conterà anche la Theam ovviamente il sindaco ha annunciato l'azzeramento della giunta a gennaio ci sarà la ridistribuzione delle deleghe e poi il voto a Milton ogni gioco politico resta subordinato al voto di sfiducia a Milton di Sabatino il primo cittadino ha chiesto 19 voti contrari le opposizioni tra liste ciniche spine da staccare minoranze tutte contro il Brucchi Ter ovviamente c'è un refuso liste civiche andiamo andiamo avanti con la lettura della città il giubileo abruzzese al via il terramano in particolare San Gabriele sarà protagonista praticamente la prima porta santa ad aprirsi oggi pomeriggio con una cerimonia solenne in 5.000 fedeli attesi alla porta santa di San Gabriele sicurezza rafforzata dalla questura nelle chiese giubilare ovviamente c'è attenzione a massima attenzione per quanto riguarda la sicurezza dei fedeli andiamo avanti per i disabili terramani è la stagione più buia assistenza tagliata di un quarto nonostante mesi di proteste centro autismo ancora chiuto nessun contributo dalla AS le istituzioni lontane far fronte ai problemi i volontari raccolgono fondi per finanziare l'assistenza con voucher destinati ai disabili andiamo ancora avanti multipiano verso una nuova chiusura il parcheggio non rende la parking piazza italia preme per la riconsegna dello stabile alla ASL sempre per quanto riguarda Teramo andiamo avanti teramo in lutto per la morte di mister Bruno l'allenatore che nei 70 portò il bomber Pulitelli in bianco rosso si è spento 82 anni ieri i funerali a Genova andiamo ancora avanti andiamo a vedere qualche notizia dalla provincia nessun tentennamento sull'autodromo la maggioranza di Montorio risponde alle critiche il referendum ha deciso ma vogliamo garanzie per l'ambiente la convenzione si andrà avanti se gli enti competenti valuteranno il progetto rispettoso delle prescrizioni ambientali previste e se la società autodromo del Gran Sasso intenderà veramente portare a termine l'iniziativa attraverso la preventiva sottoscrizione della convenzione i vandali devastano gli spogliatoi dello stadio a Nereto ha piccato il fuoco ai locali utilizzati dagli arbitri nella struttura sportiva di Viale Europa andiamo ancora avanti l'accolteratore coltiva coltivava marihuana a Tortoreto i carabinieri cercano l'arma con cui il ragazzo ha aggredito il fratello e trovano invece una serra di marihuana andiamo adesso a parlare di sport e di sport regionale con il calcio di Serie B in primo piano perché è vigilia di partite questo pomeriggio alle 15 si giocherà Pescara Virtus Entella e poi anche Avellino Lanciano partiamo proprio dai Biancazzurri Mission Oddo il Pescara è vivo e saprà reagire il tecnico bisogna affrontare l'Entella come fosse il Barcellona in campo ci saranno 5 ex nella Virtus Entella anche Jadid che dice Pianzi all'addio a Pescara tra i Biancazzurri Sansovini e Zampano tra i Liguri Cutolo Sforzini e la Mezzala Marocchina il portiere Iacobucci cresciuto invece nelle giovanili della Curi il tecnico Aglietti non si fida del Pescara che dice è abile negli inserimenti un anno fa finì 4 a 0 con tripletta di Maniero e andiamo prima di ascoltare le parole di Oddo a vedere anche le probabili formazioni allo stadio Adriatico Cornacchia arbitra Martinelli di Roma 2 Pescara che dovrebbe ritrovare tra i pali Fiorillo poi Zampano Zuparic Fiamozzi e Crescensi la linea 4 di difesa Memushai Bruno e Verre a centrocampo Benali dietro alle due punte Caprari e La Padula Lentella con Iacobucci in porta Cheita Pellissè Ceccarelli e Belli in difesa Troiano Palermo e Volpe poi Costa Ferrera Caputo e Cutolo andiamo ad ascoltare adesso come detto le parole del tecnico del Pescara Massimo Oddo Io non vedo questa involuzione sinceramente nel senso che i problemi che stanno emergendo adesso bene o male li abbiamo sempre avuti non è che la prima volta che abbiamo problemi nel giocare fuori casa quindi non è una cosa nuova nel senso sono i nostri limiti li riconosciamo io credo in questi momenti la cosa positiva è che bene o male io so perfettamente quelli che sono i nostri problemi sarebbe molto più preoccupante se io non conoscessi quelli che sono quelle che sono le problematiche ma conoscendole alla perfezione ci stiamo lavorando per cercare di migliorarci domani per noi è una partita complicata da prendere in forte considerazione come ogni partita noi dobbiamo fare e domani ancora di più perché sappiamo benissimo che viviamo un momento di difficoltà quantomeno per quanto riguarda i numeri cioè i risultati non per quanto riguarda il gioco e ci può stare giocare una partita meno bene ma quantomeno dal punto di vista del gioco io non credo che ci siano dubbi che questa squadra esprima un buon calcio a volte di più a volte di meno ma alla base c'è il fatto che comunque ha un'idea di gioco fa sempre bene o male divertire il pubblico e quindi quella è una base e una nostra convinzione che deve rimanere fermo restando che poi dobbiamo andare a migliorare quelli che sono i nostri difetti e quindi sarà una partita difficile sarà una partita importante per il momento per la classifica per i punti vogliamo fortemente rimanere attaccati alla zona playoff e non uscirne e quindi faremo di tutto per per vincere questa partita restiamo alla serie B adesso parliamo della Virtus Lanciano che è di scena ad Avellino il Lanciano cerca il colpo che manca da un anno l'ultima vittoria esterna a Terni allenatore avversario era Tesser come oggi il tecnico ad Aversa recupera Bacinovic e Mammarella respinto il ricorso per la riduzione delle tre giornate di squalifica di Cecco fuori anche l'ex Vastola per il quinto giallo andiamo a vedere le probabili formazioni allo stadio Partenio arbitra Ivano Pezzuto della sezione di Lecce il Lanciano in campo con Casa Dei in porta Mammarella qui l'antirigione Pucino in difesa Di Francesco Bacinovic e Paghera centrocampo Marilungo Padovan e Piccolo in attacco Lavellino risponde con Frattali Nitrianschi Gidai Chiosa e Nica in difesa D'Angelo Arini e Gavazzi a centrocampo Castaldo Insigne e Trotta in avanti andiamo adesso alla Lega Pro alla quindicesima giornata Teramo e L'Aquila in casa per la riscossa Vivarini che è squalificato rilancia la vecchia guardia contro la Pistoiese Perrone invece cambia modulo e si affida a De Sousa ovviamente entrambe le squadre sono chiamate a riscattare le prove non brillanti offerte nell'ultima giornata e dunque staremo a vedere cosa accadrà da questo turno che le vede entrambe giocare in casa andiamo a vedere le probabili formazioni per il Teramo Tonti Cai di Speranza per Rotta Scipioni di Paolo Antonio Maddio Cenciarelli e Dorazio da Silva e Moreo la Pistoiese Iannarilli San Martino Lanini Pasini Falasco Mungo Damonte Petricione Vassallo Losicco e Sinigaglia mentre per l'Aquila Rimini l'Aquila in campo con Savelloni in porta Bigoni Maccarone Cosentino San Domenico Triarico Mancini Benzai e Piva De Sosa e Perna Rimini Anacoura Todisco Di Maio Martinelli e Bariti Esposito Galli Torelli e Lisi Ragazzu e Ricchiuti in avanti Adesso andiamo in Serie D Chiedi San Benedettese la sfida tra i bomber all'Angelini Dos Santos 10 gol contro Titone 9 capolista con 500 tifosi San Nicolò via il centrocampista Florimbi interessa al Morro d'Oro tra i tra i dilettanti il mercato Pineto e Quantenucci De Matteis al San Buceto Galli Nel taglio basso il calcio giovanile Giulianova che festa al torneo Fernisi Pulcini in campo il ricordo dell'ex calciatore tecnico giallorosso e poi il rugby Gran Sasso in campo per il terzo posto in Serie B derby Pagani Cavezzano turno di riposo per l'Aquila il volley adesso Lanci Sieco ora bisogna vincere in arrivo un rinforzo stasera all'anticipo della Serie A2 ad Ortona contro Mondovì Majorana va in B1 nella società sonda un centrale olandese il basket invece di Serie A2 domani in campo Marulli in Corona Roseto il play talento e fiducia per continuare a volare l'ex Palermo Proger attenta per il calcio a 5 Pescara in Spagna per la Final Four Acqua e Sapone ecco Paoligno invece la palla a mano Città Sant'Angelo cerca punti con il Lazio nella A1 da Arcangelo dalla Scossa nella A2 e Gommeur a Nuoro Globo con Ferrara ultima notizia il motociclismo categoria Superstock della Superbike d'annunzio al lavoro per un mondiale da protagonista è tutto per questa edizione di Mattino 6 grazie per averci seguito e ovviamente l'augurio di una buona giornata e di un buon fine settimana grazie a tutti Grazie a tutti